ciao ragazzi benvenuti in questo mio nuovo video oggi andremo a fare un tagliandino alla moto gli andrò a cambiare l'olio del cambio gli andrò a mettere questo andrò a tirare giù il filtro dell'aria pulirlo con la benzina e oliarlo con quest'olio e infine andrò a cambiare la pedalina del cambio mettendone una nera col puntale in elga molto più bella rispetto a quella e buona visione ragazzi a allora ragazzi adesso procediamo con la benzina insieme Allora ragazzi nel mentre che Gio vi farà vedere che toglie l'olio vecchio del cambio io andrò passando uno straccio, gli passerò un po' di carta un po' sopra di benzina qua per dargli una pulitina. Una volta fatto scendere tutto l'olio pulite il sotto, qui almeno non ci sono più un bocce d'olio. E infine andate a rimettere il tappo. Allora ragazzi adesso procediamo con oliare il filtro e poi lo andremo a rimontare. Ok. Una volta oliato per bene passate col guante in modo da uniformare l'olio che avete messo e assicuratevi che sia ben oliato e poi lo andate a rimontare. Ora procediamo con rimontare il filtro. Ricordatevi di mettere il pezzettino di plastica che va dentro, com'è che si chiama? Il coso di plastica lì, non mi viene il nome. E il guscio. Il guscio di plastica del filtro. Ci basterà svitare questo, verrà via questo e metterà la nuova pedalina. Poi io ve la regolerete come volete. Non ho provato, non ho provato. Eccola qua bella nercia. Allora ragazzi come avete potuto vedere abbiamo rimontato il filtro. Ho cambiato la pedalina, scusate se in alcuni pezzi l'audio si sente poco ma non so perché me l'ha registrato da schifo. Infatti sto rifacendo sia la chiusura che l'intro. Nulla ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. In tal caso iscrivetevi, lasciate un like e spero anche che vi sia utile. Ciao ragazzi, alla prossima.